Al Museo Internazionale delle Ceramiche una delegazione internazionale partecipa al progetto europeo BEGIN, ce ne parla Massimo Caroni. Il progetto BEGIN è un progetto adriatic che raggruppa tutte le nazioni che si affacciano sul mare adriatico. Sono presenti oltre altri partner, ASPO ovviamente è soggetto partner del progetto, assieme a altri due consorsi di cooperative sociali di Lecce e di Catania. Inoltre ne fanno parte delle delegazioni provenienti dalla Bosnia, dall'Albania, dalla Serbia, dalla Croazia, dalla Slovenia, dalla Grecia. Oggi abbiamo, dopo una giornata di lavoro stamattina, abbiamo valutato e deciso, abbiamo organizzato questa visita guidata al Museo delle Ceramiche con una guida d'eccezione Luigi Fantinelli, un ragazzo che è down, che lavora qui al museo, sta facendo un tirocino da vario tempo, è accompagnato da Viole Maldi che traduce in inglese e sta accompagnando le delegazioni in visita al museo. L'ASPO è protagonista di questo progetto? Sì, ASPO è partner, stiamo lavorando da circa un anno per la creazione di imprese sociali che inseriscono persone in difficoltà, fragili e vulnerabili per la manutenzione di beni comuni o per la mobilità sostenibile, questi sono un po' gli obiettivi del progetto.